cari amiche cari amici siamo qui per riflettere insieme nel mese di ottobre che può essere dedicato tranquillamente a vaia un anno fa abbiamo avuto questo grande disastro che incide ancora nel nostro ricordo ma soprattutto incide nella nostra vista quando andiamo a vedere i nostri boschi vorrei sottolineare un aspetto particolare vaia è il nome di una signora tedesca perché c'è la regola così stabilita politicamente di dare un nome alle vicende agli acquazioni principali e disastri principali che possono capitare la donna implica sempre un qualcosa una funzione un ruolo ma soprattutto la persona che crea appartenenza la mamma la donna crea appartenenza e vorrei riflettere con voi con l'appartenenza che cos'è l'appartenenza ecco nel disastro che successe abbiamo visto una grande attività condivisa per cui hanno collaborato adulti e perfino bambini a rimettere a posto strade case a liberare dal fango persone che hanno lavorato dalla mattina alla sera e hanno lavorato non soltanto per sé ma hanno pensato anche agli altri quindi hanno pensato che nel disastro ma l'hanno pensato in maniera operativa nel disastro la prima cosa era di pensare sì per sé perché pensare per sé non è contro nessuno ma soprattutto dare una mano perché tutti in quel momento potessero avere meno danni possibile potessero ritrovarsi e potessero naturalmente riprendere speranza di vivere in quel momento la provincia di belluno ha dato un esempio che può stare storico di solidarietà di amicizie di altruismo al punto che in pochi giorni al di là degli aspetti tecnici naturalmente che sono molto difficili da risolvere in pochi giorni le famiglie possiamo dire sono tornate alla normalità normalità per modo di dire perché le cose restano ancora da sistemare ma la normalità nel senso che si sono trovate come comunità hanno potuto guardarsi negli occhi hanno potuto riconciliarsi nelle difficoltà è un tema molto in particolare cosa vuol dire appartenersi cosa vuol dire effettivamente fare le cose costruire insieme in una provincia come belluno che ha tante piccole realtà locali tanti piccoli paesi tante parrocchie tanti comuni poca gente persone dislocate cosa vuol dire fare comunità fare comunità vuol dire mettere in moto questo meccanismo che abbiamo nel cuore nella mente e anche nelle nostre mani che significa appartenenza cerchiamo di riflettere su questo termine e come si può costruire la sostanza che sta dietro questo nome appartenere perché appartenere cosa dà l'appartenenza appartenenza appartenenza